Due giorni di grande pallavolo giovanile con le migliori squadre italiane della categoria Under 16 femminile. Sabato 25 e domenica 26 febbraio, il Baccino Termale ospiterà la sesta edizione del Memorial Gianni e Doriana Campesan, con la finale alle 16.30 di domenica al Palaberta di Montegrotto. Un evento importante per tutto il territorio. Un bellissimo biglietto da visita che non è concentrato solo su Montegrotto Terme, ma raccoglie anche la collaborazione di altre sei amministrazioni comunali. Un grande esempio di lavoro coordinato, di lavoro condiviso, che fa emergere la qualità delle nostre strutture sportive e soprattutto del nostro territorio, anche in funzione turistica. La sesta edizione della manifestazione conferma la qualità dell'organizzazione. Qualità dell'organizzazione assoluta e di fatti la sesta edizione lo dimostra. Un evento che ha già riscosso successo negli anni precedenti e che siamo convinti possa raccogliere sempre più successo anche negli anni futuri. In campo tutte le migliori squadre italiane della categoria. Sì, un evento importante. Ormai credo non sia più un torneo, ma è il Campesan, perché è una manifestazione ambita da tante società a livello nazionale e qui abbiamo il cuore dell'attività giovanile della federazione. L'Under 16, che è un'età importante per lo sviluppo dei nostri atleti. Da qui partono poi per altre mete e altre soddisfazioni. Ormai dopo sei edizioni ha assunto un livello tale che è paragonato alle finali nazionali. Quindi è tutto di guadagnato per il nostro territorio e per la promozione della pallavolo nel Veneto. La manifestazione è organizzata dal comitato FIPA di Padova in collaborazione con le amministrazioni di Montegrotto Terme, Abano Terme, Battaglie Terme, Due Carrare, Selvazzano Dentro, Torreia e Limena e delle associazioni sportive Due Monti Abano, Libertas Torreia, PGS Cararese Euganea, Termal Volley, Giarre, Medoacus, Pulpa Tavium e Polisportiva Euganea. Siamo arrivati alla sesta sedizione del torneo Campesanna che noi organizziamo con l'intento primario di ricordare due grandi persone che hanno fatto grande la pallavolo padovana Gianni e Doriana Campesanna. Questa è un'edizione molto prestigiosa. Ormai da tutti è definito il torneo principale dell'Under 16 a livello nazionale. Per cui questo grande alla buona ed efficace organizzazione del comitato territoriale FIPA di Padova e delle amministrazioni comunali che ci sono a supporto. Grazie. 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 Grazie.